Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora Fa un caldo dalla madonna O mi compro un condizionatore O mi metto un ventilatore qua Allora In questa puntata faremo Qualcosina nella Techit Tipo questo famoso anello per volare Che non mi ricordo più quindi andrò a vedere nei commenti E rispedderò A 5 domande che mi avete fatto in più Dell'Aimai Quindi, video Eccoci qua ragazzi Allora sono andato a vedere i vostri commenti E mi avete scritto che l'anello si chiama Swift of Wolf Quindi Swift Wolf E' questo anello qua Perché ha più colori Ah Non capisco Comunque servono 4 Dark Matter Ok L'Iron Band E le Piumettine Ok Allora come prima cosa Andiamo a fare sta cosa qua Quindi le Dark Matter Ah Ottimo Ottimo Ah Meno male che c'è una bella Clistar Bella cicciotta Ok Allora Come prima cosa Come prima cosa Le Piumettine Quindi andiamo a vedere se nel sacchettino Le Piumettine Ah Non c'ho Piumettine Allora Via sta roba qui Via Ok Ok A posto Allora Piumettine Non abbiamo neanche mezza Però 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 Wolf Vediamo la Piumettina Non si può Fare in qualche modo Fader No Non si può fare la Piumettina In nessun modo Ok Andiamo avanti a fare il resto Poi la Piumettina Ci pensiamo Allora ragazzi L'Iron Band Iron Band Serve Va bene Un secchio di lava E ferro Quindi Non ho Nemmeno la lava E non ho Eh ma non c'ho Va bene ma non c'ho niente Dov'è sparita tutta la Ah Ok Ferro ce l'abbiamo Ho un secchio d'acqua normale Vediamo se mi da Il secchio di lava Se gliel'ho fatto imparare Ma non penso Ok Quindi Secchio d'acqua Non gliel'ho fatto imparare niente Però Prendiamo un secchio vuoto Ok Quindi Ferro È un po' tanto Questo La La Ciao amico mio Ah Eh Non l'ho fatto apposta Va bene ragazzi Tentiamo di Di Ricattare tutta sta roba qua E Temporaneamente la metto Nel sacchettino Perché non so dove metterla Troppa roba E poi Gliela ridaremo Allora Un attimo che il sistema di inventare Ragazzi arrivo Ok ragazzi Abbiamo sistemato più o meno Gli ho messo le celle qui E nel mio secchettino Ho tenuto il resto Perché non so dove metterla Tanto per un Un po' di lana Non si offende a nessuno Allora Vado a cercare Il secchio di lava E Per forza Perché Questo qui Costa troppo Quindi vado a cercare Il secchio di lava Ragazzi E arrivo subito Oh Finalmente ragazzi Escoci qua Preso il secchio di lava E Torniamo su Eccoci qua Ritornati ragazzi Allora M'ero accorto Che questa Esplosa Quindi ho dovuto Rifare La Philosopher's Stone La Transmutation Table E ho trovato Anche una piuma E così abbiamo Risolto Questo piccolo problema Allora ragazzi Facciamoli imparare Subito la piuma E Me ne prendo un po' Gli facciamo imparare Il secchio di lava Che ho preso giù sotto E Damene un po' Damene un po' Ok E Questa Portiamo a casa E finalmente Facciamo Questo Wolf Allora Servono Quattro piume Così No Stiamo Facendo una cazzata Prima Devo fare L'anello del ferro Quindi Così E Così Ho fatto l'anello E via Stosecchio qua Poi devo mettere Le quattro piumette Qua E mi servono I dark matter Allora I dark matter I dark matter I dark matter Io in teoria ho qualcosa Tipo questo E ne servono Un botto Mi serve anche Un blocco Di diamante Ma è possibile Che non c'è neanche il diamante Bla 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 Allora Vediamo Se viene fuori il diamante In qualche maniera Ecco Ah ma c'è anche già Blocco Un blocco Due blocchi Tre blocchi Quanti blocchi servono? Sono Quattro Vabbè ma quello Ragazzi si copia Quindi Un blocco Questo qui Allora Sblocchiamo Questo qui Ne prendiamo Nove Dieci 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 Ok Mio E facciamo Un Di qua Un bel dark matter Quindi Questo qui E questo qua Fatto il nostro bel dark matter Ce lo facciamo imparare E glielo copiamo Al volo Al volo Uno Due Tre Quattro E questo qua lo teniamo per la copia Ah Ha tutto L'ho usata L'energia Vediamo un po' Oh Swift of wolf E mo come si vola Ah Non so Volare Ok E come si scende Mo Oh che bello Ma consuma energia Se Si Si Ma cosa Ho combinato Ma che diavolo Che diavolo Ho combinato Qua sopra Dai Ok Ha fatto Non una lagata Di più Sono tutte vuote Ragazzi E questo Boh Scusa Ok Vabbè da sotto è figo Però da sopra Non ha molto senso Va bene Allora leggiamo Le cinque domande Della HiMai Che erano rimaste indietro Allora Una ha scritto Hai mai pensato Di cambiare il nickname Di Youtube No Sinceramente Non l'ho mai pensato Di cambiare Perché DarkHima Un nickname Che è nato Prima di Youtube Non è nato Avevo 12 anni Tanti anni fa Quindi vabbè Tanti anni fa Quindi no Non l'ho mai pensato Di cambiare Poi altra domanda Ma ho fatto Ha mai pensato Di fare un raduno Nelle Marche Purtroppo Non sono mai stato Nelle Marche Quindi Sì sarebbe bellino Farlo Però Ma muoro Scusa No Non mi faccio Niente danno Allora No Purtroppo Non ho mai pensato Di fare un raduno Nelle Marche Perché Perché non ci sono mai stato Quindi Prima o poi Ci starò Ci verrò Altra domanda Mi fanno Pensate Di fare un video In piscina Sì Non cadiamo Sarebbe figo Però Purtroppo In questo periodo Sto lavorando Quindi È difficile Nenca andare In piscina Altra domanda Hai mai sposato Una signora No Sono Non mi sono mai sposato E Non penso Di sposarmi A breve Poi non si sa A me la vita Ultima domanda Hai mai pensato Di buttarti giù Con un paracadute Questa è una bella domanda Perché Sì L'ho già pensato Di farlo Più In precisione Sarebbe Figo buttarsi Da un aereo Più che altro Che un paracadute E Sì Prima o poi Lo farò Spero Non troppo In là Allora Ragazzi Ma mi scrivete Nei commenti Che cosa hanno combinato Qua Perché non Non capisco C'è Si sono sbattuti A mettere Tutte ste geste Ma chi l'ha fatto Luke Marcus Skeledan Blablabla Poi vedo Che hanno fatto Una scritta Luminosa Ah Gli hanno fatto L'energia Alla faccia Del pupazzolo Grazie Questa qua Diventa mia Tanto Non c'è Energia infinita Di più Che figata Oddio mio Le lava cell Mamma Quanta energia Perché poi Sono tutti Mk3 Ragazzi Io intanto Sto sudando Un attimo Perché fa Caldissimo E questo qua Praticamente È tutto Bello Putana Ottimo Lavoro Ottimo Ottimo Grazie per l'energia Che questa Mi servirà tanto E Finalmente Si può volare Allora 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 Io intanto Io intanto Molti di voi Mi hanno detto Ok La casa qua Ci sta Altri mi hanno detto Che fa cagare Scrivetemi altri pareri Intanto io Questo qua Non lo tocco Perché lo voglio capire Chi l'ha fatto Perché è curiosa Come cosa Tutto Sta il cesto Qua Quindi BioToby Vediamo Qua se hanno fatto Qualcos'altro La 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 Ma Qua non c'è niente Di strano Nuovo Ci sono Quattro impianti Quattro Ragatelle Ok Va bene Grazie per essere stati Qua con me Ragazzi Scusate ma In questo periodo Fa troppo caldo Quindi Si fa fatica A registrare E Tanti pollici in su E alla prossima Ciao Ciao